Astronauta Forrest Lei ci dà speranza e le sue geste incredibili resteranno incise nella storia dell'umanità. Lei non è solo. Gli abitanti del mondo intero puntano il loro sguardo verso di lei. Quindi la preghiamo di non perdere le speranze e la fede. Pregheremo per lei affinché torni a casa sano e salvo. La preghiamo di non perdere le speranze e la fede. Cos'è che spinge il genere umano a correre certi rischi? Perché durante la storia l'uomo ha sentito la spinta di andare a esplorare luoghi remoti e sconosciuti, nonostante il rischio di non tornare a casa. Nel caso di Europa, la glaciale e misteriosa luna di Giove, quell'ispirazione arrivò sotto forma di fotografie. fotografie che ritraevano forme di vita. Queste sfocate fotografie diedero all'intera specie umana la prova definitiva che la vita, come la conosciamo, non è un evento isolato, riservato solamente alla Terra. Ma più che altro è un miracolo che pervade tutto il cosmo. E per la prima volta dagli anni settanta, l'uomo cercò ancora di mettere piede su un mondo lontano. l'uomo cercò ancora di mettere piede su un mondo lontano.